Che vuoi? Uomini e donne, diretta puntata del 6 marzo, Stefano avvistato con una donna Le anticipazioni delle trono-over di Uomini e donne, rivelano che ci sarà una forte discussione tra Gemma Galgani e Rocco Fredella. Oggi, 6 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale di Uomini e donne, lultimo della settimana dedicato al trono-over. La puntata andrà come sempre in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Protagonisti della puntata sono due coppie, stiamo parlando di quella composta da Gemma e Rocco e Stefano e Pamela. Diretta Uomini e donne. 1508 Terminata questa segnalazione, sempre Pamela vuole fare riferimento ad una domanda di una follower che su Instagram chiede a Stefano chi preferisse fisicamente tra Pamela e Roberta. A dare fastidio alla dama è l'atteggiamento sul social da parte dell'uomo, tentennante e imbarazzato. 1502 In studio interviene un ragazzo che a telefono comunica quanto visto quella sera in discoteca. Lui sostiene che Stefano abbia preso questa ragazza per i fianchi per farla avvicinare. 14.58 Entra Pamela e comunica che le hanno inviato un video del 14 febbraio, giorno in cui lui è andato in discoteca ed è stato visto con un'altra donna. . Stefano ha capito bene chi è questa donna e dice di trattarsi di una fotografa che lo ha contattato per motivi lavorativi. . 14.58 è il momento adesso di parlare di Stefano. . L'ultima settimana lui le aveva proposto di uscire dal programma, ma Pamela si è dimostrata ancora troppo insicura. . Dopo l'ultima registrazione entrambi si sono sentiti e le cose sembravano andare meglio, tuttavia, oggi, Pamela comunica che è giunta una segnalazione su di lui visto con un'altra donna. . . 16.51 scoppia una discussione tra Gemma e Rocco in quanto lei è preoccupata per il finale della serata, a suo dire, preventivato. . Rocco allora sbotta e dichiara di non concedersi durante la serata. 14.45 inizia la puntata e si torna a parlare di Gemma Per lei si presenta un altro uomo, Giorgio Maria De Filippi le chiede se ha intenzione di conoscere altri uomini al di fuori di Rocco e lei emmette di aspettare prima di vivere il weekend nel castello con Rocco e poi di valutare cosa fare a posteriori Tuttavia, la dama torinese non ha intenzione di conoscere Giorgio Anticipazioni uomini e donne, in studio si respira un clima molto teso tra le coppie Durante la puntata di oggi, si inizierà a parlare della ormai consolidata coppia composta da Gemma e Rocco Dopo che il cavaliere ha invitato la torinese a trascorrere un weekend romantico nel castello che è stato protagonista delle scelte dei precedenti tronisti, la tensione sembra tornare più viva che mai e tra i due scoppierà una forte discussione Aria tesa anche tra Stefano e Pamela La dama, nelle ultime puntate, ha mostrato molta diffidenza e poca fiducia negli atteggiamenti dell'uomo, nonostante lui le abbia più volte chiesto di uscire insieme dal programma come coppia A rafforzare maggiormente l'indecisione della donna sarà una segnalazione su Stefano A questo punto, l'uomo lascerà lo studio e lei non lo inseguirà, tanto che sarà accusata di non voler lasciare uomini e donne A presto! A presto!